Book disegnato da Mick Strider Talama in 420 Molto massiccia Ricoperta di una teflonatura Manico in FRN Come quelli degli Spyderco praticamente Ottima impugnatura Coltello molto massiccio Chiusura Linear Lock Tutto è lungo Una ventina di centimetri Questo modello è con Il manico Desert Tan Colorazione mimetica da deserto Si può avere anche In altri colori Tutto è lungo Tutto è lungo Tutto è lungo Alla prossima Tutto è lungo